Musica Chi t'ha detto di cambiare le lenzuola? Credi sia su dicevi Non ti ripropare più Tesi! Questa è casa mia! Si inganna una Lui che fa? E' che è rimasto fuori? Si fa l'ora Non la fare tanto l'innocente Sono fatta apposta per farti venire a prendere Il mio cugino di Prato mi ha finito la pensione a una di voi Lui Italia perché Io voglio una famiglia rodotta Io voglio una bambina e soldi per offrire a lui tutti Il telefono ai arabinieri fai che ti pare tanto la si mette in regola Enrico le ha mandato tutte le carte E poi Tu li vedi il giornale radio A gennaio Gli entrano in Europa E diventano come noi Al buono Che va a casa? Che casa? Rai Grazie a tutti.